Nuovo a fondo del movimento fronte comune nei confronti dell'amministrazione comunale di Erice. La portavoce Silvana Catalano, in un comunicato stampa, ha puntato ai riflettori sui campetti della pianeta di Erice, non usando mezzi termini nel parlare di un impianto sportivo in stato di abbandono. La struttura si trova nel bel mezzo del Bosco di Erice, può contare su due campi da tennis, uno di basket e un altro di calcetto. C'è anche un campo di bocce, oltre che un bar, docce e spogliatoi. Un signore impianto del comune che potrebbe davvero rappresentare un autentico fiorallocchello dell'enorme potenziale, trovandosi in una posizione strategica lungo viale delle pinete. I campetti sono affidati in gestione, ma, come evidenziato da fronte comune, sono chiusi. Silvana Catalano ha evidenziato come la maggior parte dei campi siano inaccessibili per la mancata manutenzione o per la presenza di lucchetto, una situazione che la portavoce del movimento ha definito inaccettabile e inconcepibile, definendo vergognosa. La situazione in cui versano i campi e, ricordando come il campo di calcetto, da un paio di mesi si è dotato di un tappeto in erba sintetica, che comunque non copre l'intera area, diventando punto di ritrovo per bambini e ragazzi e ricini e non. Tutti i pomeriggi sono decine di giovani che si riuniscono qui per svolgere attività sportive e ludiche. Alcuni salgono appositamente con la funivia, ma non possono soffrire di alcun servizio, ha rimarcato la Catalano. Il campo che utilizzano è circondato da erbacce e rami secchi, con i cestini arrugginiti, colmi e nessuno che scende a svuotarli. La portavoce del movimento fronte comune, rappresentata al Consiglio Comunale di Erice da Vincenzo Maltese, si è chiesta se esiste un comodato d'uso o forse una convenzione e quindi se ci sono obblighi da assolvere da parte del gestore. Ma Silvana Catalano ha chiamato in causa anche il Comune di Erice, che è proprietario dell'impianto, e sulle funzioni di organo di controllo che è chiamato a svolgere, affermando infine come l'impianto di Viale delle Pinete potrebbe funzionare dalla primavera all'autunno e invece tuttora si trova in condizioni di abbandono a causa dell'inerzia, ha concluso l'esponente di fronte comune, e della non curanza di questa amministrazione.